Sono stati individuati due malviventi che lo scorso 21 luglio avevano rapinato un compruoro di Guidonia. Si tratta dei due noti pregiudicati rispettivamente di 51 e 53 anni, entrambi italiani a dispetto del soprannome di uno di loro noto come l'inglesino. I malviventi hanno approfittato dell'apertura della porta sul retro da parte di una commessa che stava rientrando in negozio. Una volta dentro hanno arraffato tutti i gioielli che hanno trovato nelle vetrine e nella cassaforte per un valore complessivo di circa 90.000 euro, senza tralasciare l'incasso in contanti per altri 5.000 euro. I malviventi sono due personaggi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, tanto che gli agenti sono andati a casa dell'inglesino dove hanno trovato gli stessi vestiti che indossava durante la rapina, cosa che ha consentito di chiudere il cerchio. A seguito poi di ulteriori indagini fatte di appostamenti, intercettazioni e interrogatori è stato individuato anche il secondo rapinatore, il 53enne, già nel carcere di Re Bibbia per un'altra condanna.